Siamo con Vittorio Fabris al termine di Feralpis all'Albino, l'F3-1, il tuo gol è quello che ha dato un po' la sicurezza, ha detto che la vittoria è finalmente tornata. Sì, per fortuna, loro si erano un po' sbilanciati, quindi in contropiede siamo riusciti a ripartire, mi è arrivata la palla giusta da Settembrini, io sono riuscito a stopparla bene, ho fatto un bel diagonale e sono rimasto freddo. Hai sottolineato questo tuo stop anche in conferenza stampa, di fatto uno stop ben fatto, ovviamente parte poi di quello che si va a concludere, è arrivato un gol, è il tuo primo stagionale? Sì, è stato il mio primo gol stagionale, sì, sono contento perché comunque metà del gol è arrivato grazie allo stop, non era facile in corsa così e sono contento del gol, ripeto. Tre punti importanti, adesso però bisogna pensare già all'Umezane, arriva giovedì in anticipo di qualche giorno, poi ci sarà la Pasqua, magari qualche momento in più per riposare e in attesa poi di quello che sarà il Tour de Force finale. Sì, io credo che con questa vittoria comunque abbiamo riacquistato un po' di fiducia, oltre alla vittoria c'è stato secondo me un bel gioco da parte di tutta la squadra e arriviamo con la testa giusta per l'Umezane, sperando che il finale sia lo stesso. Grazie a tutti.